buongiorno a tutti i nostri telespettatori ben ritrovati a questa nuova edizione del nostro tg tech andiamo a vedere quindi quali sono le principali notizie in questo settore è stato realizzato proprio qui in italia un primo esemplare di robot che pensa ad alta voce e impara cose nuove esattamente come i bambini il progetto è stato realizzato da due giovani esperti dell'università di palermo i quali hanno dato vita ad un piccolo umanoide differente da tutte le altre macchine perché in grado di ragionare e pensare autonomamente buono si prepara a eseguire un comando infatti il robot dà voce ai propri pensieri che accompagnano le azioni abbassando leggermente il tono della voce rispetto a quando si rivolge agli esseri umani in cina invece i ricercatori cinesi hanno proprio scoperto un nuovo meccanismo per sviluppare dispositivi di memoria non volatile ad altissima velocità sono basate su eterostrutture di van der wals con interfacce atomicamente nitide tra diversi elementi funzionali con un valore di estinzione fino a 10 miliardi tali dispositivi di memoria sono in grado di compiere operazioni di lettura e scrittura nell'ordine di 20 nanosecondi e di conservare i dati per almeno 10 anni mentre gli attuali in commercio lo fanno per 100.000 nanosecondi le eterostrutture di van der wals sono costituiti da diversi materiali stratificati impilati e possono essere impiegati in campi di ricerca che vanno dalla scienza dei materiali all'elettrochimica intelligenza artificiale invece spinge sempre di più per l'accessibilità nei social network instagram facebook microsoft e zoom sono sempre più accessibili infatti grazie all'intelligenza artificiale che consente di adattare le piattaforme alle necessità degli utenti con varie disabilità favorendone quindi l'inclusione dopo che si è dimostrato necessario a causa di smart working che didattica a distanza instagram ha introdotto nuove funzionalità alle storie che permetteranno di visualizzare i sottotitoli in automatici così da permettere a chi ha problemi di udito di comprenderne il significato facebook invece decide di utilizzare l'art dell'intelligenza artificiale per creare descrizioni per le foto per persone non vedenti e povedenti attraverso un testo alternativo automatico e ancora microsoft decide di creare un fondo dedicato proprio all'accessibilità per persone con disabilità mentre zoom vira l'aggiunta di sottotitoli in tempo reale per la possibilità di identificare un interlocutore come interprete andiamo invece nel mondo apple arrivano le prime indiscrezioni sul nuovo modello dell'iphone che si chiamerà infatti iphone fold uscirà nel 2023 e sarà pieghevole sfoggerà un display da 8 pollici composto da nanoparticelle di argento che permetterebbero quindi al smartphone non solo di essere piegato su se stesso ma addirittura arrotolato le dimensioni dello schermo aperto toccheranno quelle di un ipad mini le previsioni di vendita oscillano attualmente tra i 15 e 20 milioni novità anche per il nuovo apple watch attraverso un accordo con la startup inglese mac rumors l'apple potrebbe lanciare infatti sul mercato un nuovo apple watch in grado di monitorare i parametri vitali come la pressione del sangue i livelli di glucosa e persino il tasso alcolemico la tecnologia si basa su sensori di tipo ottico che rilevano i livelli delle sostanze attraverso la pelle il prodotto dovrebbe arrivare già dal prossimo anno con la nuova serie 8 degli apple watch pavimento high tech sostenibile al colosseo spostiamoci infatti in italia dove nella stessa pavimentazione dove una volta gli agladiatori combattevano il ministro della cultura italiano ha deciso di far costruire un nuovo pavimento da porre al centro della struttura interamente tecnologico e sostenibile il progetto è quello di utilizzare le sofisticate tecnologie moderne per preservare e allo stesso tempo valorizzare ogni piccola parte del sito archeologico il piano sarà in realtà composto da pannelli mobili e in fibra di carbono mentre sul fronte della sostenibilità il progetto prevede che non si utilizzi alcun tipo di materiali da costruzione pregiato e che si raccolga e ricicli l'acqua piovana io vi ringrazio per averci seguito ci vediamo alla prossima edizione del tg tech continuate a seguirci sulle fonti tv grazie